Salve a tutti amici di Campania Nel Pallone, eccoci qui ritrovati per il consueto appuntamento con il punto del giorno dopo. Napoli che ieri si è imposto con il risultato di 3-0 ai danni dell'Eintracht Francoforte, bissando lo 0-2 della gara d'andata in Germania per un totale di 5-0 e conquistando l'accesso ai quarti di finale della UEFA Champions League per la prima volta nella sua storia. Un'altra prestazione pregevole a coronamento di un doppio confronto dominato in lungo e in largo, un ottavo di finale che nei 180 minuti ha visto una superiorità schiacciante da parte del Napoli che ha ottenuto questa qualificazione con facilità davvero disarmante senza lasciare neanche le briciole alla detentrice dell'Europa League. Ormai davvero non ci sono più parole per descrivere le gioie e le emozioni che mister Luciano Spalletti e i suoi magnifici ragazzi ci stanno regalando in questa stagione da sogno ad occhi aperti perché ad un campionato da vera e propria schiacciasassi, un campionato che stiamo totalmente triturando e nel quale siamo stati capaci di creare un vero e proprio abisso tra noi e le inseguitrici c'è una Champions League nella quale questa fantastica squadra sta incantando l'Europa intera tramite l'espressione di un calcio paradisiaco elevandosi a modello riconosciuto, apprezzato e stimato dall'intero continente. Perché non dimentichiamo che prima di questo ottavo di finale c'è stata una fase a gironi meravigliosamente disputata e che ha visto gli azzurri aggiudicarsi il gruppo A con Liverpool, Ajax e Rangers a suon di prestazioni stellari e con la bellezza di 20 gol messi a segno in sei partite. Ed ora comprendendo gli ottavi di finale siamo in totale a 25 gol in otto partite, numeri che davvero la dicono lunga sulla straordinarietà di questa squadra. Adesso ovviamente c'è grande attesa per i sorteggi dei quarti di finale che si terranno nella giornata di domani alle ore 12. Le potenziali avversarie sono ovviamente sette considerato che siamo ai quarti di finale e sono come detto ieri dall'esterno del Maradona nel post-gara Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Inter, Milan, Benfica e Chelsea. Ovviamente essendo arrivati a questo punto della competizione non esistono avversari semplici. Come dicevo ieri siamo ai quarti di finale della massima competizione europea e dunque la parola abbordabile non esiste neanche lontanamente. È chiaro che se dovessi scegliere preferirei evitare una tra Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco in quanto quelle che ho appena citato sono ad ora le tre principali candidate alla vittoria finale. Però siamo piuttosto certi del fatto che anche queste tre squadre non sarebbero assolutamente contente di incontrare questo Napoli che è pronto a giocarsela a viso aperto contro chiunque e ripeto oggi gli azzurri alla fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea non si sentono assolutamente la cenerentola di turno ma si sentono una grande tra le grandi consapevole della propria forza consapevole di potersela giocare contro chiunque e allo stesso tempo di poter imporre il proprio calcio contro chiunque e su qualsiasi campo. Dunque il motto deve essere sempre lo stesso. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Tra l'altro in occasione del sorteggio non soltanto verrà definito il tabellone dei quarti di finale ma si decideranno anche gli abbinamenti per quanto riguarda le semifinali. Dunque la giornata di domani sarà decisamente importante. Tornando a quanto visto nel corso dei 90 minuti di ieri, nel primo tempo possiamo dire di aver assistito ad una prima parte di gara abbastanza simile a quella verificatasi in occasione di Napoli-Atalanta ovvero con l'Eintracht Francoforte che attraverso un pressing a uomo ha provato a togliere fluidità al giro palla azzurro ma il Napoli come d'altronde sempre ormai non si è minimamente scomposto ora questa squadra ha imparato anche a giocare con calma, a studiare la situazione e poi ad andare sempre a cercare la chiave per azzannare la preda ed ovviamente poi il gol siglato da Victor Rosimène sul finire dei primi 45 minuti di gioco è stata l'amazzata finale per l'Eintracht Francoforte che pur essendosi avvicinata in un paio di situazioni all'area di rigore azzurra non ha mai particolarmente impensierito la retroguardia appunto del Napoli che quando l'Eintracht Francoforte si è fatto vivo dalle sue parti ha sempre risposto presente con degli interventi provvidenziali questo conferma del fatto che questo Napoli non soltanto è una squadra che esprime un calcio meraviglioso ma che allo stesso tempo vanta una compattezza ed una solidità difensiva invidiabile da tutti perché appunto forse ad oggi non c'è una squadra in Europa che riesce ad unire un gioco corale di grandissima qualità ad una grande solidità difensiva e poi nel secondo tempo la strada è stata sempre più in discesa è stato molto bello vedere come nonostante il risultato acquisito la squadra abbia continuato ad avere il piede puntato sull'acceleratore ad imbastire azioni abbiamo visto delle giocate nello stretto davvero d'alta scuola ed infatti sia il secondo gol sia l'azione nella quale poi è stato concesso il calcio di rigore si sono viste delle giocate davvero di pregevole fattura con in entrambe le situazioni Kvaraschelia a disegnare delle parabole frutto del suo talento cristallino e sul secondo gol in occasione del secondo gol l'assist è stato di Giovanni di Lorenzo mentre poi il calcio di rigore se l'è procurato Zielinski dopo uno stop di petto di Di Lorenzo e poi è stato lo stesso Zielinski a trasformare il tiro dal dischetto e poi i minuti finali sono stati accompagnati dagli olè del Maradona che poi al triplice fischio si è lasciato andare ad un boato e poi è stata festa in campo e sugli spalti a suon di cori e ovviamente la speranza è che tutto ciò possa non finire mai e continuare il più a lungo possibile questa squadra ripeto non ha alcuna intenzione di porsi limiti è consapevole di avere tutte le carte in regola per appunto non porsi limiti è chiaro che poi in qualsiasi modo questa Champions League andrà a finire saranno soltanto applausi e ringraziamenti ma da parte di tutte le componenti calciatori, allenatore, società e tifoseria c'è la consapevolezza che si può sognare in grande anche in Europa e dunque detto questo e al momento tutto volevo citare l'espressione di Anghissà dinanzi all'elevazione straordinaria di Victor Rosyman che è saltato addirittura fin a 2 metri e 40 e davvero l'espressione di Anghissà rispecchia anche ciò che di meraviglioso sta svolgendo questo Napoli in questa stagione che ripeto è davvero da sogno ad occhi aperti dunque detto questo un ringraziamento a tutti coloro che hanno ascoltato questa diretta un saluto a tutti e ovviamente un augurio di una buona serata ciao a tutti